ESAC Formazione è partner del progetto europeo Garanzia Giovani per contrastare la disoccupazione tra le nuove generazioni. Nello specifico ESAC Formazione si occuperà di formare figure professionali richieste dalle aziende. Ne parliamo con Sergio Terzo del Centro Formazione ESAC. Tramite i finanziamenti della comunità europea permette ai giovani fino a 29 anni che sono senza occupazione di avere un accesso agevolato al mondo del lavoro. È un percorso che vede l'individuazione delle aziende che sono disponibili ad accogliere in tirocinio sulla base di le figure professionali che sono state individuate proprio dall'analisi delle aziende e dopo un percorso di formazione cominceranno i mesi di tirocinio. Quali sono appunto queste figure che avete individuato, quindi quali figure in formazione? Proprio dall'analisi dei fabbisogni delle aziende abbiamo visto che sono particolarmente richieste le figure dell'addetto vendita e quindi coloro che devono poi trovare occupazione all'interno del negozio come commesso o come commessa. Abbiamo quindi la figura del magazziniere inteso in maniera evoluta, non è il semplice, colui che sistema gli scaffali ma che abbia anche competenze nel gestire gli acquisti, gestire il livello di scorte. Abbiamo la figura dell'addetto all'ufficio estero che è particolarmente richiesta da quelle aziende che trattano con interlocutori stranieri, quindi sia import che export e poi abbiamo per il mondo della ristorazione la figura di aiuto cuoco e quella di cameriere. I giovani che volessero appunto formarsi, quindi andare incontro a quelle che sono le richieste delle aziende cosa devono fare? Anzitutto rivolgersi alla nostra associazione dove possono trovare tutte le informazioni, tutte le modalità e anche partecipare al processo di selezione perché queste attività devono necessariamente basarsi anche su una selezione dei candidati. È un'ottima opportunità mi sembra non solo per i giovani ma anche per le aziende comunque. Assolutamente sì perché è un percorso che vede l'individuazione tramite la selezione, la preparazione tramite l'attività di formazione e il tirocinio tramite l'esperienza in azienda per cui il giovane che si approccia all'azienda e l'azienda che lo accoglie trova una figura che è formata e preparata.